Bisogno di un grande sforzo politico, morale e sociale per affrontare questa grave crisi che dobbiamo riuscire a vincere. Lo ha detto oggi all'Università La Sapienza di Roma il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per cui per superare la congiuntura economica internazionale occorre essere uniti. Sull'asse Milano-Torino però spira un vento di recessione. Dal capoluogo piemontese infatti l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, alla luce dei dati sulle immatricolazioni di novembre scese del 9%, ha confermato l'intenzione dell'azienda automobilistica di lasciare l'Italia, visto che Fiat è una multinazionale che ha attività in tutto il mondo, detto Marchionne, con l'inevitabile ricaduta occupazionale. Mentre in mattinata da Milano era stato il Ministro delle Infrastrutture, Corrado Pastera, ad annunciare che l'Italia si prepara a ritornare in recessione l'anno prossimo, a seguito anche dell'enorme numero di inoccupati, di casse integrati e di sottooccupati. Il Ministro si è spinto persino a ipotizzare di pagare le imprese creditrici della pubblica amministrazione con titoli di Stato, nel solco dello sforzo proposto dal Presidente del Consiglio, che ha chiesto rigore, crescita ed equità per tornare a far nuovamente lievitare il prodotto interno lordo. Un mantra del nuovo esecutivo. E proprio l'equità è stata al centro della valutazione del Ministro del Welfare, Elsa Fornero, da Bruxelles, per cui occorre riformare il sistema delle pensioni in Italia, in modo da garantire equilibrio tra le generazioni. Al vaglio del Consiglio dei Ministri, il metodo contributivo prorata per tutti, anche per quelli che finora si sono tirati fuori. L'equità invece non prevede concertazione con le parti sociali per l'adozione di queste misure, tanto che il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, ha sottolineato che non era mai successo prima che un esecutivo procedesse con riforme di questa portata senza cimentarsi nel dialogo. Mario Draghi, dall'Europarlamento, ha fatto notare in mattinata che i governi devono recuperare credibilità e che l'aiuto della Banca Centrale Europea attraverso l'acquisto di bond della zona euro non può durare in modo eterno. Per questo, ha detto ancora Draghi, occorre un nuovo patto di bilancio che completi con regole e impegni di politica di bilancio comuni gli stati dell'eurozona. Il primo ministro Monti è ottimista comunque, si è detto soddisfatto del voto alla Camera sul pareggio di bilancio, che esprime una chiara volontà di risanamento, ha dichiarato. Risanamento di cui, dopo 15 giorni, non si conoscono ancora le condizioni.